Ciao da Giammarie Migliaccio, anche adesso un nuovo audio che riguarda evidenze scientifiche molto recenti. Se volta partiamo con qualcosa del 2017, una review sistematica molto interessante che ci fa capire il livello del sonno con la degradazione per gli atleti di Elite. Dazz Elite Sport, Degrade Sleep Quality e Systematic Review su Sports Medicine 2017 e vi segnalo è anche gratuito, metterò il link quindi avrete la possibilità comunque di leggerla in html. Destro del mouse su chrome, fate la traduzione in italiano e devo dire ormai è accuratissima. Bene, detto questo, qual è la base di studio? Intanto una review sistematica quindi prende tantissimi studi precedenti che sono stati poi ovviamente fatti nel passato, in questo caso sono 1676 che sono stati poi filtrati, di questi 37 erano utili per capire il tipo di situazione. I fattori di rischio per gli atleti sono sostanzialmente tre, allenamento, viaggio e competizione. Quindi chiaramente il viaggio è solamente quando gli atleti devono comunque andare a fare una gara magari con un jet lag e così via, la competizione ugualmente è un fattore importante ed è importante magari per gli sport di squadra che hanno comunque ogni settimana uno o più incontri ma l'allenamento c'è tutti i giorni. Allora che cosa si è visto? Che intanto ci sono delle grandi variazioni individuali quindi non tutti gli atleti poi rispondono nello stesso modo ma detto questo quasi tutti gli atleti pur avendo delle differenze tra sport e sport quindi ci sono dei somiglianze tra modelli generali e non ma gli atleti di elite quindi quelli che comunque si allenano uno o due volte al giorno o volte anche tre tutti i giorni chiaramente hanno si si avvicinano molto di più. Ci sono delle latenze importanti cioè il tempo dal quale ci si mette a letto e si inizia a dormire varia da 40 minuti per i nuotatori a 8 minuti per i giocatori di rugby e questo nella media è molto importante da conoscere. Però ci sono due fattori che sono importanti da portarsi a casa ovvero sono due i meccanismi che sono associati a sintomi di insonnia legati allo sport per gli atleti di elite quindi possiamo intervenire. L'eccitazione cognitivo psicofisiologica del presonno e la privazione del sonno. Per il primo aspetto bisogna limitare tutti i fattori che possono includere ho fatto parecchi video anche che ovviamente riportavano evitare di portarsi a letto tablet computer smartphone perché questo ritarda fortemente quindi questo è da fare meglio ambiente buio meglio leggere un vecchio libro eccetera. Dopodiché c'è la privazione di sonno ovvero all'interno delle ore notturne che già questi atleti partono con 6 ore di media che sono molto poche possono con 2-3 interruzioni notturne possono scendere sotto questo livello. E quindi controllare quali sono queste interruzioni quali sono i motivi se è da utile alla nutrizione precesso d'acqua o richieste di andare a bere o mangiare e quindi intervenire efficacemente. Ringrazio i componenti della Sport Science Academy che hanno segnalato anche questa review sistematica per altre informazioni anche migliaccio.it Alla prossima ciao